Desideravo piantare alberi. Desideravo piantare alberi. Eh sì, piantare alberi è rivoluzione oggi. La tecnologia è stupida. Sì, andare più veloce. Riempire questo cielo di satelliti. Ma cosa vi siete messi in testa? Uomini della pietra siete. Non siete altro. Abbiamo una tecnologia che è limitata rispetto ad altre civiltà. E se questa terra la volete rendere carbone, ingannati dal vostro pensiero guida, appunto perché ci sono civiltà che vogliono vivere nel fuoco, che desiderano vivere nel carbone, trasferitevi voi da queste civiltà. Il virus, sì, il virus è presente. Lo so che è presente. E forse, nonostante il dolore e la paura che sta seminando questo progetto messo in alto, Da voi, complici di queste forze. È già stato inventato tutto. Sì, è già stato inventato tutto. Ma per farci cosa? Se non autodistruggerci. Abbiamo bisogno di un pianeta dove vivere, non di un pianeta dove sperimentare. Per poter amare ciò che ci è stato affidato e non donato. Ci è stata donata una scintilla che risiede all'interno dei nostri corpi che li animano. Ma tutto il resto è un affidamento. E quando ci verrà chiesto cose che abbiamo realizzato, possiamo dire abbiamo realizzato fuoco, abbiamo realizzato distruzione, abbiamo realizzato pace e amore. Sì, video sorvegliateci, microcippateci, fate alla nostra vita il vostro diritto. Ma il vostro diritto scomparirà quando questa terra scomparirà appresso alla vostra ricerca di vanità. Sirene, ricotteri, mamma mia, quanta paura sta dimondando. E non sarà proprio questa. La vera piaga. Questa paura ci toglie le protezioni. Abbracciandoci, volendoci bene, aumentiamo la nostra difesa. Dividendoci, spaventandoci. Anche un lieve mal di testa, diventa malattia. Anche un lieve mal di testa, diventa malattia. Conoige, comanda sugestiva, buono e riso. Eого naparta, Anduna Jack. Oh, va bene. Ciao. 8 cm e per 10 cm. Un' Werelar. Un' Skillse,nersuso di Semele, Le savoglio saudinò. Alla Calentino, un' Justi定a,scale, Viaco, e Landgrazina, Grazie a tutti.